Come stai Arnaud? Ciao Arnaud! Che cosa diavolo è successo alla piazza della rivoluzione oggi? Germaine era là e io conosco il suo piano, dove te... Ti avevo detto di lasciar perdere le indagini. Sì, ma ascoltate! Sì, ma ascoltate? È così che rispetti la confraternita? Sapevo che sarebbe successo, lo dicevo a Mirabocari, ossessionato dalla tua vendetta. Per questo sono entrato nella confraternita! Già, non per via dei nostri ideali o per servire la nostra causa, per vendicarti. Per redimermi! Dillo come ti pare. Hai disobbedito agli ordini di questo consiglio. Ucciso bersagli di tua iniziativa e violato il credo a ogni pie sospento. Maestro Trenet? Alla luce di questi fatti, non mi resta altra scelta che far votare la tua espulsione. Maestro Bélier? Concordo. Che state... Maestro Kemar? Concordo. Arnaud Dorian, sei stato condannato. Ti privo del tuo grado e titolo e da oggi sarai esiliato dalla confraternita di Parigi. State scherzando? Sentite, io so cosa ha in mente Germaine. Posso fermarlo? La decisione del consiglio è presa. Adesso puoi andare. La decisione del consiglio è presa.